Giornata storica per la Basilica di San Marco con la firma siglata tra Sopritendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia, Ministero della Cultura e Procuratoria di San Marco. È stato avviato un piano di interventi di restauro nella Basilica grazie all'acquisizione di un generoso finanziamento di 3 milioni e 300 mila euro ottenuto dal Ministero della Cultura nell'ambito del piano strategico Grandi Progetti Beni Culturali. Ora che la Basilica è protetta la riportiamo all'antico splendore eliminando i gravissimi danni interni dell'acqua alta e lo stiamo facendo nel modo più efficace con grandi competenze e soprattutto con grande consonanza perché istituzioni pubbliche e enti privati sono tutti della stessa parte in questa grande sfida. Gli interventi di restauro interesseranno principalmente i rivestimenti la Pidei dell'Ala Nord del Nartece, l'Atrio della Basilica e la Cappella del Santissimo Sacramento fortemente danneggiati negli anni dalla salsedine delle alte maree lavori indispensabili mirati a conservare preziosi marmi e mosaici di un bene considerato in tutto il mondo patrimonio dell'umanità. Per quanto riguarda l'intervento sui rivestimenti, le cruste marmore di rivestimento interne dell'Ala Nord del Nartece è previsto di smontarne la maggior parte per poterle dessalinizzare in acqua e per quanto riguarda invece il mosaico che contorna l'altare del Santissimo l'intervento prevede un'applicazione di impacchi di estrazione dei sali fondamentalmente. Tra le 29 imprese selezionate in tempi record in un'aperta gara d'appalto ne sono state selezionate 7. L'assegnazione se l'è aggiudicata per l'importo complessivo l'impresa RTI Lares, lavori di restauro di Venezia. Mi pare che questo sia un bel esempio di efficienza amministrativa e soprattutto di collaborazione tra enti. Data la complessità, il tempo richiesto dalle operazioni di restauro è stimato in due anni e quattro mesi.